Il mercato settimanale del martedì che sorge in Contrada Marchidello a Gela crea non pochi problemi agli studenti che frequentano l'Istituto Professionale per l'Industria e l'artigianato Enrico Fermi. La strada di accesso alla scuola infatti è invasa da auto in sosto o in transito che più delle volte impediscono il regolare afflusso degli alunni. E non solo. Oggi sono stati proprio due ragazzi che frequentano la scuola a denunciare il problema. Il traffico non è fluibile come dovrebbe. Abbiamo molti problemi sia nell'entrare a scuola in orario, infatti veniamo spesso richiamati. Oltretutto in caso di soccorso immediato non avremo la possibilità di uscire e trovare uno sbocco per quantomeno arrivare in tempo sul luogo e perché appunto il traffico è abbastanza denso a causa appunto della locazione delle bancarelle del mercato settimanale che sono quasi davanti al cancello dell'Istituto. Del problema è stato investito il Consiglio Comunale, l'esponente di Forza Italia, Salvatore Scerra. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, abbiamo toccato con mano il problema martedì, quindi ieri mattina. Abbiamo visto che effettivamente qui davanti c'è un traffico pazzesco, caotico, abbiamo visto che le bancarelle sono messe già quasi davanti al cancello di entrata dell'ingresso dell'Istituto e quindi è un problema serio, un problema di sicurezza e un problema di via di fuga. Fortunatamente fino a quando non succede niente tutto va bene. Adesso comunque anche i ragazzi ci hanno chiesto di intervenire. Abbiamo chiesto insieme agli altri consiglieri comunali che sono qui presenti oggi con me di avere un incontro con l'assessore della Polizia Municipale, con il comandante della Polizia Municipale, in modo tale che possano essere effettuati più controlli martedì prossimo e lasciare libero l'ingresso e quindi dare possibilità ai ragazzi, agli studenti, quindi ai professori e anche ai genitori di poter usufruire dell'ingresso in maniera molto fluida.